Grazie a tutti. Ma non sono più in grado di guidare questo gruppo, quindi è inutile continuare questo percorso. Faccio un grande in bocca al lupo a tutta la piazza, ringrazio per come sono stato accolto, ho trovato una grande famiglia e da questo momento in poi il Foggia avrà un grande tifoso in più, perché se lo meritano con tutto il cuore e l'affetto che riescono a prendere da ognuno di noi. Grazie. Grazie a tutti.